Questa settimana solo i Mischilla, proprio mi sono concentrato e sono qui solo per andare passo per passo a raccontare questo disco ed è importante perché siamo al terzo capitolo di una trilogia fondamentale per il rap moderno dal punto di vista di quel rap 2.0 i figli di Fabri Fibra Club Doggo insomma, infatti non a caso si parte proprio su un beat che è già un marchio quando senti Un Limit Struggle già capisci che è un marchio di qualità hip hop, quindi già che mi parti su un beat così io godo ma poi cosa c'è? C'è la citazione, la citazione di Jake che spero abbiate riconosciuto quando ho iniziato avevo gli occhi della fame all'ultimo respiro sarebbe il brano, l'ultimo vero capolavoro dei Doggo probabilmente con questo flow sincero poi di Chilla che mi sembra di riascoltare veramente il giovane Chilla di Keta Music volume 1 flow crocker per intenderci, impazzisco e ti fa capire, prima di quel locale al centro, l'ho fatto al centro sociale è una strofa in cui racconta quello che è stato Emiglietto Lozzarro, le palle che ha dimostrato il cuore di sto ragazzo, il talento grezzo, la voglia di emergere il ragazzo che si vestiva diverso dagli altri e che quindi non poteva fare l'hip hop però spaccava in freestyle meglio di questi buristi di sto cazzo un ragazzo che poi ha fatto la hit e poi ne ha fatte tantissime e poi è cresciuto, adesso ormai è un uomo e sta vivendo appunto una fase 2.0 non lo sa manco lui dove andare a parare allora torna a fare quello che sa fare meglio, ovvero il rap esce con un disco con Jake e poi fa Keta Music volume 3 ritornello della Madonna, come il Chilla sa fare da un punto di vista anche pop anche se il brano è underground, però ti fa questo ritornello che è un'altra sua super skills, perché lui fa l'hip hop a 360 ma te lo fa suonare leggero con questi ritornelli belli fatti che proprio ti fanno capire il concetto e che sono adatti a tutti e infatti avrei cantato uguale, bellissimo e poi c'è Lazza che segue la falsa riga della strofa di Emiskilla ci racconta un'altra storia, una storia simile ma da una prospettiva diversa è lo schiaffo del soldato, dice, ma a fatti concreti parliamo di una storia che è quella dell'erede designato, quello che a un certo punto puoi avere anche scazzi col tuo patrigno, perché devi andare per la tua strada perché comunque, ok, il Chilla ti ha dato una mano, ti ha in qualche modo anche lanciato perché eri il più promettente di Milano ma ti pesava e quindi a un certo punto c'è stata anche una divisione quei freestyle in cui ci si zaccagnava un po' e adesso che spettacolo vederli insieme così, in una traccia, con questo livello dove raccontano il loro passato, il loro presente, ci mostrano quello che sono e in qualche modo stanno incoronando quelli che sono stati che sono stati